Questa mattina avevo un po' di tempo libero prima di dover raggiungere Brad sul set, così ho deciso di andare a lezioni di Pop Physique. Ci sono andata con Brandy Aniston e Sovereign Sire. Vado sempre con loro quando riusciamo a coordinare i nostri impegni e devo dire che è stato intenso. Uno dei maggiori benefici che si possono trarre dal Pop Physique praticato nel tempo è che sembra avere un effetto decisamente positivo sul mio lavoro. In particolare aiuta quando devo girare una scena di sesso. Schiena dritta, dovete tenere il busto dritto. Quattro, tre. Adesso molleggiate bene fino in fondo. Sono stata chiara? Dovete sentire l'interno senza tensione. Fate lavorare i muscoli. Ricordate, schiena dritta. Dovete allenare quei muscoli finché non ce lo fate più. Mi ero dimenticata di quanto fosse dura. Va bene? Sì, benissimo.